Ciao a tutti, oggi prepariamo il gelato alla banana. Dopo il gelato alla vaniglia mi è stato chiesto di fare un gelato che non abbia né le uova né il latte, quindi ideale per tutti, sia che il leggo lattoso, sia che il vegano e così via. Questo infatti contiene soltanto le banane. La cosa importante è che la sera prima o il giorno prima mettete in freezer delle banane con la buccia così come le comprate e poi il giorno dopo potete realizzare il gelato quando siete più comodi. Adesso viene a trovarvi il vostro nipote, stressa che vuole il gelato, tac, in un attimo glielo fate, vostro figlio vuole il gelato, la stessa cosa. Quindi adesso vediamo la sigla e poi ci vediamo per realizzare il gelato. Sigla! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Spettacolare! Bello cremoso, io poi per non farmi mancare niente gli ho messo un po' di cioccolato fuso e un po' di granola con qualche scaglia di crocco. Spettacolo! Bene, quindi con delle banane, un frullatore o un mixer in versione potete realizzare il gelato a casa vostra tranquillamente, ideale per i bambini. Non c'è zucchero, non c'è latte, non c'è uova. Spettacolo! Bene, come al solito vi incoraggio di iscrivervi al canale, lasciamo un mi piace a guardare gli altri video. Ciao ciao!